Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi voglio innanzitutto ringraziarvi per le tantissime visualizzazioni ottenute nel video precedente quello dei moduli tattiche di fifa e se non l'avete ancora visto vi consiglio di andarlo a vedere che può ritornare molto utile colgo anche l'occasione per segnalare il mio nuovo canale twitch c'è il link in descrizione a questo video oppure in alto a destra sotto la scritta FusiGaming trovate l'icona di twitch che ci ha collegato chiaramente il mio link appena l'ho cliccato andrete direttamente sul mio canale dove potete lasciare un cuoricino e seguirmi io stimerò di solito il sabato pomeriggio dove porterò al foodchampions dalle 13.30 circa fino alle 16.30 posso portarvi fifa solamente il sabato pomeriggio perché purtroppo a casa non vanto di una buona connessione arrivo a malapena 3 mega quindi figuratevi che streaming potrei fare mentre il sabato pomeriggio sono a casa di un'altra persona e mi permette chiaramente di giocarmi la ringrazio tantissimo e mi permette anche di streammare quindi quelle tre ore le dedico al foodchampions dove potete seguirmi e vedere come gioco o farmi il tifo o chiaramente seguirmi per puro divertimento io ragazzi poi vi dico anche che se volete aprire le vostre ricompense del foodchampions possiamo farlo in shareplay potete inoltare il vostro account il vostro nickname del PSN sotto nei commenti oppure in instagram che lo troverete il collegamento sempre in alto a destra sotto l'icona di twitch e potete scriverlo quindi in direct così almeno possiamo organizzarci aprire le vostre ricompense foodchampions assieme così posso assembrare il video con le vostre ricompense così anche voi potete condividere con tutti le vostre ricompense anche io stesso oggi non vi parlerò del mio rank non vi parlerò delle mie ricompense che chiaramente le ricompense non le ho ottenute ma neanche del mio rank quello potete vederlo giovedì pomeriggio quando pubblicherò il video oggi però volevo parlarvi innanzitutto del foodchampions il primo foodchampions di fifa 20 le mie impressioni della prima settimana diciamo che il foodchampions è rimasto invariato rispetto agli altri anni a parte le migliorie di base di fifa quelle dal punto di vista difesa, tattiche eccetera eccetera non ho visto nessuna differenza ho visto sempre i soliti problemi di lentezza dei giocatori rispetto delle rivals dove si riesce a giocare abbastanza bene nel foodchampions non si riesce a giocare abbastanza bene tutte le partite perché i server in quei tre giorni sono pieni pieni di persone che si connettono tutte chiaramente in quegli orari punta, sabato pomeriggio, domenica pomeriggio soprattutto e quindi i server essendo full la connessione va a diminuire e quindi disalta di più la latenza di segnale molte volte fate il contrasto in ritardo molte volte il comando parte in ritardo e questo comunque porta delle mancanze diciamo nel gioco che vi possono mettere anche in difficoltà se non siete giocatori esperti non dico che io sono un giocatore esperto non dico che io sono un fenomeno però mi trovo anche io in difficoltà perché non riesco a giocare come gioco nelle rivals e quindi io stesso mi sento penalizzato poi in più divento anche nervoso perché magari sbaglio sbaglio un contrasto gli regalano il rigore poi lasciando perdere le paperate dei portieri dei difensori quelle solite puttanate che accadono nella partita come anche voi potete ben sapere che vi vanno a subire gol io diventando anche nervoso smetto di giocare stacco il cervello gioco solo col nervosismo e quindi peggioro la situazione poi dobbiamo dire degli squadroni che si trovano contro nel FUT Champions ci sono state partite oneste con squadre al mio livello diciamo che come overall di squadra vi parlo poi squadre veramente immense squadre da 5-6 milioni che in tutta onestà è veramente difficile da battere poi chiaramente il giocatore può essere senza mani quindi potete batterlo facilmente però generalmente si trovano squadre con lo stesso vostro numero di vittorie quindi giocatori più o meno con le stesse vostre abilità e quindi nel momento in cui si equivalgono le abilità però un altro ha i fenomeni un altro ha le pippe potete capire anche voi che chiaramente chi ha i fenomeni ha un piccolo vantaggio non dico che improvvisamente diventa dio perché comunque si può battere si possono battere però chiaramente con molte difficoltà perché capite anche voi che uno ha un vantaggio è un giocatore molto più forte sarà più forte di più forte nel tiro voi invece dovete arginare questa diciamo diversità con le vostre abilità e quindi si può fare però allo stesso tempo vi mettono in difficoltà perché chiaramente secondo me è da un punto di vista etico se si può dire così non è corretto questo dovrebbe essere un po' la EA che sistema questa cosa nel senso bilanciare un po' gli overall delle squadre ma non dico totale della squadra contando i panchinari perché si sa nei FIFA precedenti dove si posizionavano i bronzini in panchina così l'overall si abbassava e ti permette di trovare squadre più scarse io farei solamente con la rosa degli 11 che si trova in campo o perlomeno con gli 11 giocatori più forti presenti nella squadra tra panchina e gli 11 titolari in modo tale che si possa trovare delle squadre veramente equilibrate tutte e due con lo stesso punteggio di overall e secondo me in quel momento lì si crea veramente una buona competizione nel senso che i punti che si ottengono dalle vittorie si ottengono grazie a delle partite equilibrate perché nel momento in cui tu con 28 Icon giochi contro me che ho dei giocatori nella media mi fai 10 gol prendi più punti vai più in alto in classifica secondo me diciamo è un po' taroccato il primo al mondo il secondo al mondo si ok nel senso che magari per i primi 200 al mondo i primi 100 che potete vedere quelli che rimangono nella Elite One possono essere con squadre equilibrate tra di loro però allo stesso tempo quelli sotto no magari sono giocatori che possono giocarsela bene avendo dei buoni giocatori in campo mentre non avendo questi giocatori in campo trovandosi squadre controforti possono perdere o all'ultimo con una singola basta una singola azione per perdere cioè non è che per forza per perdere 12 a 0 perché l'altro è più forte basta perdere 1 a 0 in un contropiede che i tuoi sono sposizionati e quindi puoi perdere magari quella sconfitta veramente data da queste cose secondo me non è equilibrato se si vuole fare veramente un torneo al giocatore che porta più punti con più vittorie e tutto bisogna equiparare le squadre perché chiaramente squadre equilibrate possono permettere un gioco migliore possono permettere a persone che non scioppano di arrivare più in alto io dico così perché io sono ad esempio uno di quello che non scioppa poi magari chi scioppa così e tutto dice no quello che penso non è corretto io vi esprimo solamente il mio parere quello che penso io e quindi secondo me bisogna un po' bilanciare questa situazione poi ragazzi c'è da dire anche che il giocatore veloce fa la differenza fa veramente la differenza un giocatore veloce rispetto a un giocatore lento soprattutto per i difensori io parlo che ho un 81 ed armilità ho in difesa è un mostro perché nel senso va a recuperare tutti ha una velocità assurda non ha difesa e fisico ha 81 81 quindi non è che ha quelle statistiche elevate però con la corsa riesce a recuperarmi l'attaccante che sta scappando e riesce a fermarmelo mentre ha un Felipe che ha un over più alto un 84 però essendo più lento si trova più in difficoltà in molti contrasti o comunque nell'inseguire il giocatore quindi la velocità in questo gioco fa la differenza come in attacco giocatori che hanno magari 95 di velocità tiro 30 ti fanno più gol di un giocatore che ha 90 di tiro e 70 di velocità che quello è un po' un paradosso che anche quello non condivido e non condivido come giocatori tecnici diciamo come ad esempio Tony Cross costa solo 18k perché non corre e poi ci sono giocatori argento con 96 di velocità che ti costano 25k che non ci sono 25k però avete capito nel senso che non è bilanciata secondo me la cosa non è che può essere giocatore veloce uguale forte si è un gioco però bilanciamo un po' questa cosa rendiamo la velocità influente ma secondo me non così tanto per almeno renderlo un po' più realistico sappiamo che FIFA vuole rispecchiare un campionato inglese un campionato inglese dove il gioco è molto veloce si gioca tutto vai e vieni in modo molto veloce rispetto a un campionato italiano che secondo me è soporifero molto tattico appunto è il campionato dove si dribbla di meno si gioca tanto a catenaccio e come gioco io gioco io in campo che non sono quello che corre di qua e di là per non sbilanciare la squadra io ragazzi penso di avervi detto tutto avervi detto i miei pareri riguardanti al FUT Champions in generale vi ricordo il mio canale di Twitch che potete trovare il link in descrizione o sotto la scritta Fusi Gaming vi ricordo anche che potete aprire con me i vostri pacchi tramite SharePlay quindi dovete lasciare il vostro contatto PSN sia o in commento o nella chat di Instagram io ragazzi vi saluto ci vediamo giovedì con le ricompense del FUT Champions ragazzi seguite il mio canale per vedere tutti gli altri video vi saluto e ci vediamo sul prossimo video grazie a tutti